Si apre le gabbie, partiti i cavalli della terza corsa del pomeriggio La prima notizia è che uno dei partecipanti è stato disarcionato già all'apertura delle gabbie ed è proprio Don Stomairan che ha girato indietro praticamente dopo l'apertura delle gabbie non ne ha voluto sapere di partire Partito forte invece come al solito Yucke che si è portato subito al comando Rose Zar con la giuba blu, veleggia in seconda posizione in terza all'interno c'è Bridge Blockbauer e il dorato poi a completare il quadro insieme a Stolen Glory con la giuba arancio e nero c'è Da Acclamation poi Baby Bio che chiude il gruppo dei partecipanti si procede in questo ordine verso la prima parte della curva nessuna variazione dal punto di vista delle posizioni sempre Yucke a indicare la via Rose Zar che si è sistemata sulla sua tre quarti ma poi anche Bridge Blockbauer già sostenuto anche Stolen Glory sotto braccio e frusta e il dorato da Acclamation e Baby Bio che ha cominciato la sua progressione all'esterno di tutti siamo in retta d'arrivo con Yucke che per ora ha debellato la resistenza da parte di Rose Zar la quale tuttavia all'esterno ci riprova con una certa convinzione gli altri che sono abbondantemente richiesti prova a mettersi sulle gambe anche Baby Bio con Yucke che ha in vantaggio di una lunghezza adesso c'è un duplice a fondo quello di Baby Bio all'interno e quello di Rose Zar all'esterno Yucke è stanco e allora lascia a strada Baby Bio che è passata in deciso vantaggio Baby Bio contro Yucke nel tratto conclusivo Baby Bio ottiene la terza vittoria a seguire in continua scesa seconda posizione per Yucke e per il terzo Rose Zar impresa per Baby Bio che colleziona tre vittorie consecutive a livello di handicap e non è un fatto scontato Germano Marcella in sella per i training e colori di Tonino Cascio numero tre al primo posto 4,50 la sua quota definitiva battuto il favorito Yucke 3,2 e poi per il terzo posto il numero sette Rose Zar qui rivediamo il tutto c'è stata addirittura una caduta speriamo senza conseguenze dovrebbe essere così in fase di rallentamento per Rose Zar e Dario Vaggio qui rivediamo il primo piano però di Baby Bio che all'interno piega uno stanco almeno in linea teorica stanco Yucke 3,2 e poi vediamo un po' per il terzo dovrebbe essere sì numero sette di Rose Zar per Baby Bio terza vittoria in carriera tutte e tre ottenute una dietro l'altra è tutto e poi vediamo un po' per il terzo grazie a tutti